301 questo è il numero del terrore su youtube infatti come tutti sanno quando un video riceve molte visualizzazioni è destinato a fermarsi a 301 per poi continuare a ripartire più smagliante di prima ma cosa succede quando non riparte e cosa bisogna fare andiamo con ordine dovete sapere che quando caricate un video su youtube questo viene attivato come pubblico solo dopo una piccola e semplice revisione del video se il video è considerato legale questo viene caricato sul server di youtube in maniera ufficiale per controllare quali video sono effettivamente caricati sul vostro canale potete guardare nel modulo gestione video del vostro account youtube una volta caricato il video inizia ad essere visualizzato e inizia così il conteggio delle visite senza nessun tipo di filtro tranne al fatidico 301 infatti dalla visualizzazione 301 si innesca un processo di controllo e di filtraggio anti spam le vostre visualizzazioni vengono bloccate e se approvate ripartiranno solo dopo l'approvazione di youtube però a volte succede che questo non succede e allora cosa fare youtube ha messo a disposizione una pagina di supporto per questo tipo di problemi vi lascio il link nelle info del video se hai notato che un video è fermo da tempo allo stesso numero di visualizzazioni puoi fare appello da questa pagina e tornare a crescere per adesso questo è tutto ci vediamo al prossimo video con magicolo